Sono prossime all'ufficialità le prime partenze dalla Rosa del Teramo. L'attaccante Ciro Foggia nelle prossime ore risolverà il suo contratto con la società di Campitelli e si accaserà alla Sicula Leonzio. Un corteggiamento che va avanti dall'inizio della sessione invernale di calciomercato. L'ex Melfi, tre gol quest'anno di cui due su rigore, ritroverà in panchina quella Imodiana che lo ha allenato in Terra Lucana e che ha spinto ai fini di un approdo in Sicilia del centravanti originario di Scampia. Anche l'esperienza di Momo Sumare a Teramo e ai titoli di coda, il giocatore di proprietà dell'Avellino aveva chiesto a inizio sessione di mercato di poter chiudere la stagione in bianco-rosso ma la richiesta arrivata dalla squadra lussemburghese del Dudenlange ha cambiato i piani del calciatore nativo della Guinea che si congeda con una presenza in Coppa Italia e 12 in campionato delle quali appena due da titolare. Il tutto in attesa che lasciano Teramo anche due giocatori in prestito come Ibrahima Diallo e Lorenzo Paolucci destinati a tornare a Pescara. Situazione particolare per Altobelli che vuole giocare di più ma solo quando troverà una squadra che gli offre tali garanzie chiederà di rescindere il contratto con scadenza giugno 2019, cosa che il Teramo farà senza problemi. Le prime partenze liberano risorse economiche per il mercato in entrata. Nel mirino del DSer Giorgio Repetto è finito l'attaccante classe 96 Cristian Carletti di proprietà del Carpi con cui ha disputato sette spezzoni di gara in Serie B segnando un gol. Per il ruolo di trequartista il nome delle ultime ore è Simone Milani, 16 presenze e 6 gol in Serie D con la Lupa Roma. Dopo il test amichevole perso con il Pescara Primavera il Teramo chiude oggi la settimana di lavoro. Domani è domenica riposo e da lunedì ricomincia la settimana tipo per preparare la gara ricca di incognite contro il Vicenza di sabato 20 gennaio. A proposito, proprio dal Veneto arriva la notizia che il procuratore della Repubblica di Vicenza, Antonino Cappelleri, ha presentato istanza di fallimento della società berica chiedendo altresì l'esercizio provvisorio per consentire al club di portare a termine la stagione. In quali condizioni? Difficile saperlo, visto che molti calciatori possono svincolarsi e andare a giocare altrove. Intanto domani i giocatori in stato di agitazione non disputeranno la gara di Coppa Italia a Padova.